Breve e necessario preambolo, in questo video sono presenti molti smadonnamenti, raramente censurati e simili, sproloqui, ignoranza e schifo generale, tipo siamo abbastanza ignoranti, quindi se avete la sindrome del piccolo fiocco di neve speciale, mi dispiace, però vi dovete levare. Dar che azzo! E ora divertitevi, bestie! Benvenuti a tutti quanti! A Irakondi! Il canale è Irakondi. Questo è il primo gameplay di questo canale, che entrerà nella storia, nella storia di cosa? La storia del modalità folle giochiamo, entrerà nella storia del modalità folle giochiamo, in questo titolo che si chiama? Pippo Franco Adventures, sono le storie di Pippo Franco, quelle vere, no, quelle inventate, del bagaglio, no, è praticamente Battlebox Theater. Ed è un platformer, mer, che ne faccio un platformer, non mer. Ora cerchiamo questa storia perché secondo me sarà un gioco veramente profondo, è deep, perché poi ti abbottano i pantaloni nel gioco. Buongiorno, ragazzi e ragazzi. Buongiorno, ragazzi. Ma buongiorno, le ragazze. Ehi, ragazzi, turn the lights down low and shut your faces as I rap you in the cozy blanket of a story. Una storia che è sollevante e soffa come un bacio di mamma. O è? Shhh! Ora si gioca! Finalmente credo di questo parto! E non torno più. Una volta che parto non torno più. Esattamente. Mettisci la testa di caccia. Non smetti di attaccarmi senza buono. Ovviamente c'è il timer perché questo gioco è intelligente. Perché se uno si rimane indietro è l'entwatt bestia. Questo tutorial è così pieno di difficoltà, di salti, acrobazie, di parkour. Non è vero. Ma tu vuoi? È arrivato prima di tempo. Ti vuoi? Perché non... ok. Non restavo più. Perché... ok. Ora diventa Hitler. Oh... Oh... Ti faccio una due pelle di merda. Io ti rimango qua, qua sopra. Non mi muovo. Spergerò 6 secondi tu senti da qualche problema? No, no, no. Ovviamente... Incomincia più o poi il gioco è un... tradito da Hattie. Hattie, boom, boom. Questo è l'intruzio mentre nelle cose. Non c'è delle cose, di nuovo. Ah, ecco qua. Wow, 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 wow. Mi ha niente adesso. Ok, quindi bisogna mettersi i leggermi in tasca per sbloccare la porta. Ecco qua. Ci devi tipo... Cos'era un lavoro? Era splendido. Ecco cos'era. Devi aspettare tipo una merda fuori dal tuo cervello. Vieni verso di me. Ok, è ottimo. Non lo devi... Ingrattare. Ora hai collaborato. Si, deadly combination. Parcour, ma... Proprio il parche. Qua qua, ok, la c'è l'uscita, quindi bisogna... Hai preso tutto. Cioè, zizzo. No, dai, qua, zio, ma la smetti. Ma vedi che ricominci da... dall'inizio. Ma perché questa cosa è orrendo? Perché se abbiamo messo la modalità insieme? Ah, è vero. Quindi se uno dei due muore... Eh, vedi, scemo. Cristo. Forse è un po' troppo insane. Esatto. Vedi di fare il sano quindi per non ammazzarci. Prima te l'ho dovuto. Allora. 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 Si vuole una sega, un gomito l'ho preso io. What a gamma fly? I can feel the way I did before, non so, in back of me I won't be in north. Quindi per tutti i livelli c'è uno dei due crepas che attacca l'album. Davvero. Come l'hai capita questa? Morendo. Attento eh. Oh, cioè. Ma dobbiamo saltare uno sull'altro qua per prendere questo. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Do you remember? I told me in the same way. 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 Già. Ho queste musichette molto anni. Anni. Eh, ero preso nel salto. Ma vuoi anche suicida? No! No! È vero, anche se ti suicidi che succede questo. Ma dai davvero? Perché forse conta come è morte, non ci hai pensato. Diciamo il suicidio anche se non viene celebrato nella cristianità come quando fanno i funerali perché il suicida va all'inferno. Però conto qualmente come è morte perché sei morto. Bello. Bisogna andare lassopra. Esatto. E tu devi pure venire. E no, non conta ammazzarti questa volta. Ah, ok, è vero, è vero, è vero. Solo devo ripetere. No, stavolta devi seguirmi, passo tuo passo. No, devi andare sulla lava e zompare sul coso. Ok, ok, ok. Bravo! Mamma mia. 10 su 10. E' una bella reflex. E' una bella reflex. E' una bella reflex. Quindi adesso si va di qua. No. Questa è un triangolo. Questo triangolo. Oh! No! Non ci voglio chiedere. No, neanche io ci voglio chiedere. Stai attento, per favore. Per favore, stai a qua. Questa è la volta buona. Me lo sento. Devi, vieni, vieni ma... Ah, bene, bene. Questi giochi di ricollaborazione. Vabbè, qua, qua. Intanto vado subito malattimici. Dobbiamo essere Speedy Gonzales e 1-4-4. Ok, bravo. Eh, lo vedi già come ho più manualità, eh. Eh, perchè mi ho fatto tre volte sto vedendo. Come la mettiamo? Qua, qua, qua. Qua, 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 qua. Non t'ammazzare. Madonna di spacco il lungo. Eh, qui come si fa? Vai, vai, vai. E qui salti. Prendi la gemma. Ok, ok. No, no, sono andato fuori, no. No, non ci voglio credere, no. Dio devoto. No, Dio dei pieni. Sì, ma non fa questi rischi. E poi se invece ci volevo un secondo di più per prepararmi e tu schiattavi tipo male. Non giocateci a casa, mi raccomando, questo è un gioco molto frustrante. Giocateci a casa degli altri, dopo che gli avete cambiato la serratura. Come sto facendo? Rilly consigliato for... For ROMS. Se sei molto ROM, giochi al tipo gioco. Ma io ti potevo anche lanciare, perché le costanze si vengono più. Io ti ambio arma perché se gli tiro un'altra palla di fuoco e schiatto lo usico a besta. Aspetta, aspetta, uso la palla del veleno. Ecco, io ce l'ho la palla del veleno. Esatto, è brava. Molto brava. Wow, sei molto brava. Hai fatto anche i complimenti. Wow, sei molto brava. Per la fine del livello. Scene pulite. Scena pulita. Stiamo andando con una spada. Nella boccia. Una spada nella boccia. Dopo non dite che non siamo bravi a giocare. No, no. Kimmies! Oh, no. Taccisù. Oh. Per cortesia. No, per cortesia il cazzo la smetti immaginare. Ma lo vado anche a uccidere. Non voglio cortesia, la devi smettere e basta. Andiamo. Yeah. Aspetta, continuiamo un po'. No, no. No, no. Tipo, son pare a bestia. A me è meglio di color beauty questo gioco. Ok, qua giù. Di prendere la cosa qua giù. No, ma passa tra l'altro il trasporto. No, no. No, no. Top. I drink. Top. Ah, qua. Voilà. Madonna. Sei proprio donna 2000. Ho fatto una mossa donna 2000 che non ce la spavere nulla. No. No. Perché qua ci sono le cose di lancio? Eh? Boh. Qua si spinge. Ah, qua devi stare tanto tipo tanto. No, aspetta. Deve andare, sì, lì sotto. Devi correre. Esatto. Non so, non ci fosse uno. Insomma, scocchiano più per ora. Che si bolleggi a fine livello. Ma che bella il facile se tipo tutto bello già. Perchè c'è il respon immediato al checkpoint. You spicy little fart. Ah, mi capito, you spicy little fart. A little fart. Si, una scoriggina picciata. Oh, ah, il primo mondo proprio. Arato. Già. Arato a bestia. Easy peasy, lemon squee. mi sa, la vado, si, tu fai la tua cosa intanto ti aspetto oh, oh, eh, toh lo volevi eh lo volevi l'ha cercato, lo volevi l'ha trovato perché non lo prende l'ha cercato l'ha trovato oh ma non muoio oh ma non voglio io lo prendo a cazzotto no abbiamo appena scoperto che se riprendi a cazzotti muoiono stai scherzando un tuo rollo hai quel fuoco cosa sarebbe praticamente non devi morire no, già ci so posso dirlo il bonus no, 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 no ma non puoi morire lì, scusami ah, vero ma sto in paranoia, capisci dimmi no, qua dovevo scoppiarsi ma io come passo e devi inizio un po' sui costi attenta a non morire 3 non 1 no 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 noUR non ci sta occhi un village zwei non 4 complicatissima wal�리 samma sul passare gassardo tag 만든 Vabbè, puoi vincere anche Moreno Anche Moreno? Però due Anche Moreno No, c'hanno due cappelli a testa E che cosa fanno? Ti danno tipo i punteggi uber carini Kawaii Già l'hai preso quello da sopra? Sì, bravo e piace Sì 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 Ah qui devo attendere per forza La mandracata La mandracata Qua come cazzo era? Devo solo saltare? No, devi usare la fiamma incandescente del demonio Ah già sul super bambino Esattamente Ok, good Very very good Pannaio mio giù tra la gamba Ok L'ho inculato casa Ah qui è là Bravo Ma tu sei bravo Ok 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 Seve uno tipo applauzie non fate spignanacca da questi che se ovviamente vi chiedete come facciamo già eh cosa esatto esatto se vi chiedete come facciamo già a sapere queste cose non chiedetevelo esatto no prendi quello sotto vabbè ormai addio guarda se muoio addio amici addio ci dobbiamo lasciare ok no dove andare ancora sotto per esempio la nuvoletta sotto quelle nuvolette ovviamente c'era cosa trasparente cosa mi poteva sapere una mente semplice non mangia abbastanza carboidrati avanzati esatto c'è ancora quelli del 2011 barchetta vi fa scoppiare quelli forse forse ma come che cazzo fai non devi aspettare no non ti perdono come si fa un 2 da calone eh no aspetti aspetti un attimo jump vabbiamo la giamma del sud da sotto ora intanto proseguo jump io lo vedi non lo voglio vedere ola smetti di camminare grazie camminerò camminerò sulla tua strada signor signore la mia mano voglio fulminare da una parte dovevi andare però non senza di me perché sto prendendo il cazzo di gomitolo di romero eh se ce la fai a aspettarmi un attimo grazie aspetta ok 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 una cosa bella anatonio giorgio gaga senti la morte come si avvicina no non la sento perché nel caso di morte tu devi entrare nel coso verde abbiamo sblocato anche un achievement virtuoso minchia finito stessa i complimenti proprio ci fanno i complimenti virtuoso bene superiore se mi dessi il tempo per Diana time to find some gems time to find some gems time to find some gems with three of them eh si può uccidere questo no oh bada come bada e se mi faccio uccidere dell'asera eh c'è un cazzo tuoi stavo scherzando invece è successo veramente è bastato un movimento sensuale un movimento sexy sexy oh pomba eh occhio laser questo piglio di una buona donna let's honor a good girl oh bravo c'è un campione angeli morto scemo supremo scemo supremo non lascia queste cose scemo supremo scemo supremo ok io non l'abbiamo preso toh le brodesse morti ambe due bastardi? eh ci vuoi due eh? ci vuoi due eh? ci vuoi due eh? il cazzo guarda ci vado io no non è vero oh oh super super man sono super man mettete sotto di me ah bisogna andare sopra si voglio vedere che c'è sopra non c'è nata c'è acqua nell'acqua non è mai uomo super salvataggio no c'è una scelta una pia sta schizzato vai insomma eh gliela fai no credite no ma com'è poi c'è no è troppo nuovo quel salto che devi fare? ma pare che c'era un modo per far salti più in uno mica mi ricordo perché questi cazzo che cazzo sono mortati no no ma è stato lì fermo per non farmi prendere dal laser no comunque queste parti si tagliano cioè tipo quelle inutili il primo non let all things happen perché ieri ooo se stai parlando decine volte pronto pronto muori? grazie prego prego ok il gommino ok 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 non far me sia delle cazzate che se poi scoppi te ti pugno la faccia spingime eh qua se devi mandare una piaccia jetpack ma non finisce no 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 via 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 zompa sono sicuro che la fai siiii cioè devi solo gridare in tema madonna no 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 vai vai fai il super trick e devi vai oh mi stai scherzando toro loco devi far scennare la barchetta scenni la barchetta no devi salirci dentro e portarmela a me vedi che quando le cose mi te le spiega tu le capisci vedi che non stai così bambino speciale come la mamma di quella far credere aspetta no 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 neanche per scherzo la smetti cioccolato non ci ho pensato un brivido che cazzo vuole questo lo devi ammazzare muore stai sempre molto attento a non ammazzare a me perché c'è presente che lì c'era un laser e tu ci sei saltato sopra tipo incuratamente non curante del pericolo mi direi che fermiamo qua direi che abbiamo fatto abbastanza per questo primo episodio penso che è tutto avete notato bene le nostre schizze le caratterà più continue sì 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 sono d'accordo le schizze sono uno su dieci quindi adesso ciao alla prossima ciao 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 ciao